La danza per me è libertà. Solo tramite la danza riesco ad esprimere me e quello che è la vera Giulia. E nonostante i sacrifici che si fanno, sarà la danza a rendermi felice. Per me la danza è un ballo. Mi piace la danza perché ballo. Con le amiche faccio molti balletti. E poi mi diverto moltissimo. La danza per me è una passione che mi porto da 11 anni e sono molto contenta di praticarla. Proprio indietro, se no ti taglio la testa. Troppo. Ok, perfetto. Allora io me ne vado. Se sbagli, se ti inceppi, ricomincio pure che tanto lui registra, poi io taglio. Ok, ma scusa, ci devo pensare un attimo. Allora, la danza per me è divertimento, è una passione e mi rende felice e riesco ad esprimere al meglio me stesso. Per me la danza è un qualcosa che mi piace fare e mi diverto anche molto farlo. Una cosa che adoro della danza è il fatto che non sia mai soli e sia sempre in compagnia. Quando ballo mi diverto talmente tanto da dimenticarmi tutte le cose negative. Io sono una persona molto timida, tengo troppo conto del parere degli altri, ma quando ballo non mi interessa per niente del giudizio degli altri e l'unica cosa che per me conta è di fare le cose nel modo in cui io le ritengo più giuste. Grazie. Grazie.